Musica Bella ragazzi Qui è Zector E bentornati Bentornati a questo nuovo commentary Sarà tipo la ventesima volta Che proverò a fare un commento per questa partita Solamente che ho dei premieri con il computer Quindi non riuscivo mai a farcela A metterlo su Sony Vegas Però insomma spero di farcela questa volta Ecco Nulla, quest'oggi sono qui per darvi il benvenuto A questa nuova partita su Modern Warfare 3 E questa è una mob su Terminal Ragazzi, un'altra mob E insomma cercate di capirmi Solamente che ho il computer veramente pieno E quindi diciamo che sto cercando di sfoltire la lista Se così si può dire Perché veramente eliminare E buttare via delle mob mi sembra un peccato E quindi piuttosto Ve le voglio proporre, ve le voglio mostrare sul canale E nulla, parlando della partita Posso dirvi che la classe in questione Era una CR Ciccerato con silenziatore e caricatori aumentati Come arma secondaria Ero in possesso della solita MP9 silenziata E i bonus iniziali erano Gioco di prestigio, inflessibile, predatore Mentre quelli del pacchetto serie uccisioni specialista Li potete vedere anche voi dallo schermo Ed erano assassino, sciacallo e tiratore scelto Niente, allora Spendendo due parole su questa classe Posso dirvi che Secondo me è una delle classi migliori Su model of war 3 Insieme all'MP7 Quindi non so Per i ragazzi che hanno tirato poche mob Se volete appunto andare per mob Tirare una mob Io questa classe ve la consiglio vivamente Anche se io sono un ragazzo Che la usa veramente poco Proprio per questo motivo Perché è veramente troppo forte Anche se Una partita ogni tanto La faccio più che volentieri Sono sincero nel dirlo E nulla Intanto che ci sono Colgo l'occasione anche per ringraziare Quelle persone, quei ragazzi Che erano in partita con me In questa lobby Perché Mi hanno aiutato Hanno contribuito Durante la scalata di questa mob E quindi insomma Le volevo ringraziare E diciamo che Questa è anche una delle prime mob ragazzi Che carico sul mio canale Che ho fatto in gruppo Perché Come già ho citato in un video E come magari alcuni di voi Già sapranno Io non sono uno A cui piace molto giocare in gruppo Forse perché Quando si è in gruppo Magari c'è la gente Con il microfono E quindi Ti distrae più facilmente E' vero anche che Li puoi disattivare Ma a quel punto Allora Tanto vale giocare in gruppo Secondo me Poi Ognuno è libero di fare come vuole E niente Questi ultimi minuti Volevo un attimo Dirvi Un po' dirvi Quello che Mi sta accadendo Ultimamente Dunque Come sapete Purtroppo è iniziata la scuola E quindi Ci sarà meno tempo Per dedicare ai videogiochi E quindi Questo andrà a influire Un po' sulla mia Attività Su Youtube Se così si può dire Perché io quest'anno Devo affrontare Un anno difficile Un anno duro La terza superiore Ragazzi E' veramente tosta Chi l'ha fatta lo sa E chi non l'ha fatta In bocca al lupo Quando ci arriverà E no Quindi a parte i scherzi Andrà appunto A influire un po' Sulla mia attività Questo non vuol dire Che io non caricherò più video Assolutamente no Magari Al posto di Un video ogni due giorni Ne vedrete tipo Uno ogni tre giorni Uno ogni quattro giorni Adesso di preciso Non lo so Quando riuscirò Li caricherò Questo è certo Ma Questo è poco Ma sicuro Ce la posso fare Quindi insomma Ragazzi Io quest'anno Voglio un po' Dedicarmi di più Allo studio E meno ai videogiochi Perché come sapete Io sono stato rimandato E ho passato un'estate Sopra i libri A studiare Quindi Un'esperienza bruttissima Che non la consiglia nessuno E comunque Un altro punto Che vi devo dire ragazzi È che ho scelto Il nome dell'account Che userò per Il rotto comando Su Black Ops 2 Ora come ora Però non voglio dirvi Come ho deciso Di chiamarmi Perché magari C'è qualcuno Che mi aggiunge adesso Poi A novembre Quando uscirà il gioco Sarai inattivo Sulla playstation Magari perché è in punizione Perché va male a scuola Io non lo so Lo dirò appunto Quando mancherà poco L'uscita di Black Ops E nulla insomma Io spero Che questa partita Vi sia piaciuta Vi ricordo ancora Che Quando saremo A 3.000 iscritti Ragazzi Vi proporrò Una mob Con un'arma Un po' particolare O meglio Un'arma Abbastanza Normale Diciamo però Accessorata In un modo particolare E quindi nulla Mi raccomando Se avete dei dubbi Se avete delle domande Scrivete pure Che tanto io Vi rispondo sempre Voglio ringraziarvi Perché veramente Il mio canale È stando a gonfie bene Quindi questo è merito Non solo mio Ma anche vostro Quindi vi volevo ringraziare Tutti quanti Dal primo all'ultimo Siete veramente Fantastici ragazzi Io l'ho sempre detto E sempre lo dirò E nulla Il video ormai È giunto al termine Io come ho detto prima Spero che vi sia piaciuto E mi raccomando Lasciate un mi piace E ci sentiamo alla prossima Bella raga Grazie a tutti